Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo in compagnia di Pervito H09 Ciao ragazzi E comunque nello scorso episodio mi doveva costruire la casa E non l'abbiamo completata Quindi oggi siamo qui per completarla Vi diciamo subito una cosa Su questo gioco Perché oggi vi daremo Domani voglio dire E vi daremo l'IP del nostro codice del gioco Proprio domani E quindi se volete incontrarci In un nostro video su Voltcraft Installatevelo E domani vi daremo Quelli che è No, non è vero Dai ragazzi In realtà era per farlo fare un video Ma noi su Minecraft Da domani Ok Ok Allora ragazzi Continuiamo qua Io ho sentito un maiale Che c'è Fran? No niente Eh vabbò Aspetta Piero Vado un attimo a me Sì va bene Dai qua Aspetta raga Non riesco a mettere il vetro Sniper Raga perché non mi metto il vetro Dai Vabbò Lo farò così Distruggiamo qua Nell'ultimo episodio È successo E ho messo la TNT E non è andata molto bene Quindi stavolta Cercherò Ecco Come vedete C'è un bucone Questo bucone è colpa mia Poi lo tolgo Ah bu Francesci Sì Eccomo Ok Perché? No niente Perché le case Dove essere così complicate Ogni volta Allora Vi faccio un piccolo taglio Giusto appena finisco Di fare il vetro E poi Eccoci qua Ragazzi Allora Sto finendo giusto Di mettere il vetro qua E ho finito Di mettere il vetro Finalmente Che pure Friare case moderne Richiede un botto di vetro Un botto di vetro Può entrare Un sacco di gente Perché il vetro Come hai fatto a girare il vetro? Eh? Come hai fatto a girarlo? Cosa vuoi dire? Guarda Come hai fatto a girarlo? Non posso Tipo che lo metti così? Che intendi sta così? Eh No Devi piazzare un blocco così E poi si aggiusta Ah E' tutto regolare Su Minecraft Quindi da qua stanno pure i buchetti Se ti vuoi far uccidere dei mobs Perché il vetro non si può mettere C'è un accennino E so come usarlo Che fa? Guarda Un cammino No no Ok Ragazzi Come ha spoilerato Nell'altro episodio Faremo una piscina Quindi Tanto non c'era più nulla Da dirvi Ormai ve l'aveva detto Quindi Come ho detto Faremo una piscina interna Non so Quanto la farò grande Però Cercherò di fargliela In questo episodio Perché voglio provare a finirla Ma la farna non ci hai detto Puro E va buone E così Per lei è calcio Ovvio I vetri sono alti Quello è buono Ma da là ho sbagliato Ok Poi devo rompere un po' Mi dispiace Mi piace Però C'è qua pure sbagliato Raga Praticamente qua Dove essere Tutto a vetro E va buo Ma è questa zanzara Francia Mi andresti a prendere l'acqua Ragazzi sentite un'altra voce Perché siamo in compagnia Zitto maiale Per dove sta Boh non lo so Ragazzi Gli fa per voler Di nuovo il telefono Una maledizione Dovrei chiamarla Non so perché ci mandano A giocare un campetto da calcio Già Perché noi non stiamo Registrando in casa In questo momento Cioè non è che Noi vogliamo Stare all'aria Aperta Quindi se sentite Anche dei motori O che ne so Sì ragazzi Stanno Giocando E mi stava per arrivare Una pallonata Cioè mi è arrivata Proprio qua accanto Cioè per fortuna Sta la retina Le sentite Cioè proprio Insopportabile Ok Che volete Giocare a calcio Vami Però Ma sia mi sento Che ne ammazzano Allora ragazzi La costruzione Sta procedendo Abbastanza bene Allora Sti palloni Se mi arriva Un'altra volta Vicino Di a quelli Fra che Non mi do Dare pallonate Lo so che Che sono bravissimo Ma le pallonate Le voglio Un'altra Aia Raga Basta Chiamare la polizia Oh No veramente Raga Voi dovete sentire Tutte le pallonate Se le sentite Scrivetemelo Perché è proprio Insopportabile Sti qua Allora Devo calcolare Da qui Voglio fare Tipo di stala L'hai già fatto No intendo così Proprio Voglio Che sta Proprio Sto gradino Che tu lo sali E sta la cucina Che ne sono No 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 Queste sono Le case moderne Cioè Guardala Aspetta Questa è un'errore Ok Come vedete Ragazzi Mi sta piacendo Questa è un muco Se volete Schiare Guarda Puoi vederci Ma metto Un paio Di torce Non riesco A metterle Ovvio Perché sulle scale Sono un invecino Non si può Se fossimo Nella 1.14 Magari Oppure Nella 1.15 Che stanno Per fare Sarebbe Molto bello Eh Va bene Va bene Va bene Ragazzi Sto chiudendo Qui Questo è un casino L'altra volta Allora La prigione Dove Puoi anche Vedere Se scappa Qualcuno Tipo Perché Vedi Ti metti qua Non è stato Questo per Sbaglio Allora Ragazzi Forse noi Faremo Una serie Vanilla Perché Io Vorrei Già Portarvelo Una serie Vanilla Su Questo Cioè Su un altro Mondo Quindi Aspettatevi Fra pochi giorni Perché Faremo Anzi Una serie Vanilla E mi è scesa Una lacrima Perché Una zanzara Maledetta Vabbò Ragazzi Allora L'unico Particolente E' un errore Era un errore Mio Allora Allora Mettiamo L'ultimo Dimetto Poi Anche Tipo Una Stantinato Mini Tipo Che Sta Un Sotto Scala No No Non lo vuoi No Neanche Una cosa Nascosta Qui Allora Te la Nascondo Proprio Te la Metto Qui Sotto Aspetta Ecco Infatti Lo saprei C'è La Videopasse Sta Proprio Qui Sotto Ora Qui Lo Chiudo E Quando Ti Invece Ho C'è Una Cosa Intelligentissima Metto Così E Metto Tipo Una Cosa Per Coltivare Oppure Metto Una Bottola In Ferro Ok Almeno Sarà Più Protetto Serve Una Leva Allora Finiamo Qui E La Casa È Tutta In Bedrock Quindi Non Si Può Spaccare Nulla Quindi Anche Se Volessimo Cercare Di Spaccare Questo Non Potrebbero Quindi Ora Finiamo La Ok Allora Vada La Non ce La Farai Tu No Farò La Cucina Qua La Farò E Poi Inferno Devo Fare La Piscina Cioè Se Ce la Faccio Per Questo Video Sarò Contentissimo Almeno Tutti Vedranno Se No Se Te Finirò Off Camera Poi La Faremo Vedere Quando Sarà Finita Perché Cioè Questo Il Poi No Mi Fai Fini Puri 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 Erba E Poi Ti Spumano Gli Animali Che Poi In Survival Sarebbe Molto Buono Che Se Muori Per La Fame Perché E Vero Su Minecraft Muori Di Fame Puri Perché Se Questo Tu Forse Non Lo Sai Ma Nella Survival Se Tu Non Mangi E Arriva Drogue Su A Prendere Danne Muori Ma Comunque Allora Dobbiamo Calcolare Tutto Volevo Fare Tutto Così Ora Corrotto Allora Poi Lo Aggiusto Mi Andate Un Attimo A Bere Perché Stiamo Marenda Di Sete Ragazzi Che Bevi Tu Che Vuoi Ho Sete Senti Che Fa Caldo Non So Neanche Come Fanno A Gioca A Calcio Questi Vabbù Chiudo No Io Non Sto Sentendo Più Niente Mi Non Ho Smesso Forse Hanno Finito Il Primo Tempo Ecco Allora Ti Sta Piacendo Sì Ok Allora Prepariamo La Piscina Ah Qua La Farai Sì Non La Fai Sul Piano Di Sopra La Vuoi Sul Piano Di Sopra Ok Allora Tra Vedere Un Buco Eh Vedere La Stamina Perché Così Per Bellezza Ok Metto Ci L'acqua Fai Direttamente Alla Piscina Se No Sopra Piacere Piacere Sopra Oh To Morì Una Zanzara Sono Proprio Un Killer Edito Prende la Spada Aspettate Che La La Piscina La Piscina Vedevo Proverso L'altro Video Andavamo A Vedere La Perché Vedevo Cose Strane Perché Voi Non E Alla Una Grotta Pure Questo Un bel Mondo Se Stain Survival Pieno Di Materiali Stareti Cosa Sono Questa Scale Per Andare In Piscina E No Giusto Per Fare Lo Sfondo Così Tipo Metti Così No E Poi Farò Così Ah Una Piccola Piscina Sì Minoscola Sì Bello Tipo Una Di Quelle Piscine Piccole Toilette Capito Ragazzi Per oggi Il video Finisce Qui Se mai La Finiremo Off Camera Perché Mancano Solo i Mobili Della Cucina E Poi La Camera Da Letto Ragazzi Quindi Manca Solo Il Quindi Qui Dovevo Mettere La Porta Aspettate La Porta La Metto Metti In Ferro E No Il Legno Sì Aspettate Raga Ti Metto Questa E Per Questa Volta Ragazzi Io E Francesco Out T A